buongiorno ragazzi e benvenuti a questa nuova lezione oggi ci prepariamo alla giornata della memoria approfondendo la conoscenza dei giusti tra le nazioni proviamo ad affrontare l'argomento dal punto di vista di chi operò il bene infatti tra tante nefandezze ci furono molti uomini capaci di rivoltarsi contro il male e di scegliere per il bene i giusti infatti sono persone non ebree che aiutarono gli ebrei negli anni dello sterminio ricordare e celebrare i giusti tra le nazioni è proprio uno dei compiti che svolge il memoriale di ad vashem a gerusalemme istituito per documentare tramandare la storia del popolo ebraico durante la shoah il memoriale è infatti un museo che commemora le vittime della shoah ma che ricorda anche gli uomini che seppero opporsi al male rischiando in prima persona la definizione di giusto tra le nazioni va fatta risalire al talmud con il termine giusti si vuole rendere omaggio e commemorare coloro che rischiarono la vita per salvare degli ebrei negli anni delle persecuzioni nazifasciste nel talmud si legge chi salva una vita salva il mondo intero i giusti sono coloro che nonostante il clima dominante non hanno avuto paura di girare la faccia dall'altra parte e di guardare in faccia il male e l'ingiustizia opponendosi fermamente talmud cerca il significato di questo termine e trascrivilo sul tuo quaderno nel memoriale di gerusalemme è stato dedicato ai giusti un grande giardino nel quale per ogni nuovo giusto riconosciuto veniva piantato un albero ai piedi di questi alberi i visitatori spesso lasciano un sasso come simbolo del loro pensiero l'albero è anche il simbolo del rinnovarsi della vita e nella tradizione ebraica sassi e alberi sono simboli che mantengono vivo il ricordo di una persona cara l'albero inoltre continua a crescere ed escrive dunque al meglio coloro che hanno permesso a tanti uomini donne e bambini destinati a morte quasi certa di poter continuare a vivere e a generare nuova vita nel memoriale di gerusalemme i giusti riconosciuti sono oltre 27 mila e di questi più di 700 sono italiani sono stati assegnati tra i giusti sulla base della testimonianza di sopravvissuti di testimoni oculari o di documenti attendibili l'assegnazione del riconoscimento tra i giusti è difficile in molti casi la richiesta di riconoscere pubblicamente tra i giusti i loro salvatori è giunta proprio da parte degli ebrei sopravvissuti tale richiesta spesso avvenuta dopo molti anni perché era doloroso per i deportati riaprire nell'immediato la ferita della persecuzione e del dolore e poteva sembrare sufficiente mantenere con i salvatori solo un rapporto di amicizia e riconoscenza personale gli stessi salvatori nella maggior parte dei casi hanno mantenuto il silenzio sul loro operato perché non lo ritenevano eccezionale ma un loro semplice dovere civile umano religioso in molti casi sono stati i discendenti dei salvatori e sopravvissuti a sollecitarne poi il riconoscimento tra i giusti per poter rendere loro il giusto onore tra i giusti ricordiamo guelfo zamboni 1897 1994 guelfo zamboni nel periodo della seconda guerra mondiale è console generale d'italia a salonico città occupata dalle truppe naziste si oppose i nazisti per salvare gli ebrei italiani e greci zamboni organizza la fuga degli ebrei italiani verso atene e letteralmente fa carte false affinché sul treno della salvezza saigano anche varie decine di ebrei che italiani non erano affatto ma cui il console aveva riconosciuto la cittadinanza con il pretesto di chissà quali legami familiari per strapparle alla deportazione zamboni scrive moltissimi telegrammi al ministero degli esteri sveglia nel pieno della notte il capo della rappresentanza italiana e riesce a procurare documenti di identità falsi a 280 ebrei per raggiungere atene permettendo loro di sfuggire al controllo tedesco e quindi alla deportazione ho rilasciato centinaia di documenti a quei tempi non sapevo chi era non era italiano ma li dichiaravo comunque italiani come avrei potuto salvarli altrimenti puoi approfondire la conoscenza di guelfo zamboni leggendo il romanzo di luigi ballerini dal titolo anna non chiude mai gli occhi il secondo giusto che impariamo a conoscere si chiama giorgio perlasca 1910 1992 scoppiata la seconda guerra mondiale è inviato come incaricato di affari nel paese dell'est con lo status diplomatico nell'ottobre del 44 iniziano le persecuzioni sistematiche la violenza le deportazioni dei cittadini di religione ebraica e perlasca comincia a collaborare con l'ambasciatore il quale ha iniziato a rilasciare salvacondotti per proteggere i cittadini ungheresi di religione ebraica a fine novembre l'ambasciatore deve lasciare l'ungheria e perlasca si presenta come sostituto dell'ambasciatore spagnolo e da solo regge l'ambasciata fingendosi console spagnolo salvò la vita circa 5000 ebrei ungheresi puoi approfondire la conoscenza di giorgio perlasca guardando il film per la tv perlasca un eroe italiano il terzo giusto che conosciamo si chiama gino bartali 1914 2000 forse questo nome ti è più noto bartali è un campione di ciclismo un campione che salvò gli ebrei ha vinto tra i giri d'italia e due tour de france con la sua azione ha contribuito al salvataggio di 800 persone tra il settembre 43 e il giugno 44 bartali che per allenarsi in bicicletta era noto coprire grandi distanze trasportava documenti falsi nel manovrio e nella sella e poi li consegnava alle famiglie dei perseguitati tra firenze e assisi in modo che potessero salvarsi quando veniva fermato e perquisito chiedeva espressamente che la bicicletta non venisse toccata si giustificava dicendo che le diverse parti del mezzo erano state attentamente calibrate per ottenere la massima velocità e tutti ne avevano rispetto puoi approfondire la conoscenza di gino bartali leggendo il libro di antonio ferrari la corsa giusta ora tocca a te scegli un giusto tra quelli presentati e approfondisci nella conoscenza puoi leggere i libri indicati guardare il film tv oppure fare una presentazione digitale raccogliendo informazioni in rete ricorda pensare ai giusti significa avere speranza anche in un periodo così ricupo e drammatico ci furono uomini e donne che seppero rinunciare al male e combattere l'ingiustizia senza paura e senza timore arrivederci ragazzi e non dimenticate il like vi aspetto alla prossima lezione grazie grazie grazie